Sì, però adesso io direi che lascio così ragazzi, questa è la mia terlista. Penso di essere abbastanza espressa comunque la mia. Tampene il rispetto perché ripeto, a me i disti che non mi piacciono, quindi non voglio criticare con nessuno di questi streamer. Semplicemente tanti non ne conosco, probabilmente saranno anche famosi questi, però io non li conosco. Non giro tanto in cerca di altri streamer su Twitch, anche perché alla fine maggiormente seguo più streamer piccolini magari. Altri ne conosco, sì, ma non li seguo perché non mi fanno impazzire le loro live tutto là. Non mi ci trovo. Vabbè, questi qua mi sono espressa. Anzi, non so, su Twitch non l'ho mai visto, forse che streamerà. Però non mi piace come anche artista, non ascolto le sue canzoni tutto là, per gusto personale. E anche per gusto personale arrivano e non lo seguo perché parla sempre di politica. A me, saragga a me di parlare di politica non piace, quindi... Poi magari è anche bravo, eh, per carità. Loro... Li conosco alla fine, sì, però non li ho mai seguiti, quindi li metto su mai seguiti. Loro fanno il loro comunque, sebbene che tanti magari, che ne so, tipo ecco il cebole non piace a tutti, però... E loro comunque lo fanno perché hanno comunque un sacco di spetta. Anche Power comunque c'è la sua... la sua community. Eh, dischiando... Sebbene che mi possa stare simpatico, se ne potrebbe fare qualcosa di più, di meglio. Ok, io mi scarico anche l'immagine. E niente ragazzi, io la finisco così. Quindi... Fai questa. Dobbiamo fare un'altra, signorino. Aspetta. Ma io non sono capace di fare queste cose, Andrea. Queste cose sono più per voi della tier list delle ragazze. Weijinchi. Siamo a fare la tier list qua. L'avevamo già fatta. Degli streamer di Twitch Italia. Tranquilla, jean. Non ti preoccupare, che ieri abbiamo fatto tutti tardi. Che succede? Poi però tutte le ragazze seguono lei e noi tre nulla. Ah, la tier list quella dei ragazzi, io tre devi farla più domani in caso, dai. Eh, du. Perché io non sono capabile su queste cose. C'è questa ragazza io, cosa c'entro? Mannaggia. E poi c'entra il tercatrice. Vai dai ragazzi, per me basta così, dai.